Il maltempo sull'Italia avvalanga in alto adige, un morto e due feriti critica la situazione a Vicenza ma funziona nei bacini di laminazione. Caso Salis, Altigiuro, il ministro degli esseri ungherese, decidono i giudici ma ha picchiato persone innocenti, no a interferenze dall'Italia. Venerdì a Mosca, i funerali di Navalny, timori di arresti, la moglie Iulia, Putin, un mafioso, non bastano le sanzioni. Pisa, rimossa, dirigente del reparto mobile, la polizia, trasferimento programmato, Torino, ecco il video degli anarchici che assaltano volante. Il generale Vannacci, sospeso per 11 mesi, Salvini, inchiesta ridicola, ministero difesa, provvedimento nel pieno rispetto, norme. Ischia, gli inviati di chi l'ha visto ritrovano il corpo di Antonella Di Massa, la donna era scomparsa il 17 febbraio. La semplicità della campionessa, parla Simona Quadarella, due ori mondiali a Doha, mi sento più matura, alle Olimpiadi darò il massimo. Mary Poppins, vietata ai minori in Gran Bretagna. Uno dei film più amati dai bambini finisce nel mirino del politicamente corretto, usa un linguaggio discriminatorio, dicono, solo l'ultimo di un elenco sempre più lungo, da 007 a via col vento. E buonasera. Intervista alla Premier, il voto in Sardegna è occasione per mettersi in discussione, il BTP valore, più debito pubblico nelle mani degli italiani, PNRR, sono ottimista. Il maltempo sferza l'Italia, valanghe su Alpi e Dolomiti, un morto in alto Adige, fiumi in piena in Beneto, allerta a Padova, migliora la situazione a Vicenza, forti pioggia anche in Sicilia. La moglie di Alexia Inavalni, all'Europarlamento attacca Putin, è un mafioso, dice, dovete combatterlo come un criminale, il funerale del dissidente si svolgerà venerdì. L'inviato del TG2 in Iran, nell'attesa delle elezioni, molte ragazze girano liberamente senza velo, segno che la protesta, pur repressa nel sangue, qualche risultato l'ha ottenuto. Rapper, produttore discografico e disc jockey, è il cantauto rap, Darjand Amico, che tenta diffondere hip hop e canzone impegnata e si conferma uno degli artisti più eclettici della scena musicale italiana. Dopo le cariche agli studenti a Pisa e Firenze, trasferita la dirigente del reparto mobile, la polizia a vicendamento già programmato, non legato agli scontri con i manifestanti. Il generale Vannacci sospeso dall'incarico per 11 mesi dopo la pubblicazione del libro, Salvini, un'inchiesta al giorno, Crosetto, si informino, poi commenti più appropriati. Il centro-sinistra rilancia, ora c'è l'Abruzzo, uniti per l'alternativa, Meloni si può battere, Donzelli al TG3, nel centro-destra ha nessun braccio di ferro, in Sardegna non soddisfatti di quanto fatto, a Navannaia non potete colpire Putin con altre sanzioni o un mafioso sanguinario, mio marito non vedrà la bella Russia del futuro, ma noi dobbiamo vederla, i funerali a Mosca venerdì. Al nostro telegiornale, lettere di Laria Salis dal carcere, cara mamma ti scrivo, mi sento tumulata viva in un baratro dove il sole tace, l'Ungheria sorprendono le interferenze italiane. Ondata di maltempo in Veneto, a Vicenza allagamenti e strade chiuse, lo stadio menti sott'acqua, decine gli interventi di soccorso, Zaia, la città salvata dai bacini, chiesto lo stato di crisi. Ombre di guerra, si apre il fronte della Transnistria, che ha annunciato di voler chiedere protezione alla Russia contro la Moldavia. Ursula von der Leyen lancia l'allarme sul rischio di un'escalation. Il conflitto non è imminente, ma è possibile, è in gioco la libertà. Dobbiamo svegliarci e produrre più armi. Intanto spuntano nuove carte segrete sulla strategia militare del Cremlino, pronto a usare ordigni nucleari tattici. Venerdì a Mosca il funerale di Navalny, la jacusa della moglie Giulia nel suo intervento al Parlamento europeo. Lo zar è un sanguinario mafioso, è capace di tutto e non si può negoziare con lui. Putin è il capo di una banda criminale organizzata che comprende avvelenatori e assassini, ha aggiunto la vedova del dissidente morto in carcere. Dovrà pagare per quello che ha fatto al paese e a mio marito. Dopo la rimozione, due inchieste. Le querele Roberto Vannaccio è stato sospeso per 11 mesi. Possibili effetti emulativi, ricita il provvedimento. Il generale aveva da poco assunto un nuovo incarico nell'esercito. Pronto il ricorso, vado avanti. Continuerò a rivendicare la libertà di espressione. Rilancia l'alto ufficiale. Quanto alla candidatura con la Lega, rifletterò. Dopo l'assedio dei trattori a Bruxelles, Strasburgo dice sì al Green Deal. Beffati gli agricoltori che protestano. Il ripristino della natura significa troppe terre sottratte alle culture più paludi. Posizione difesa dal Partito Popolare che vota contro il nuovo regolamento. A favore liberali e sinistra e verdi con l'appoggio degli ambientalisti di Greta Thunberg. Vaste zone allagate, circolazione dei treni sospese decine di interventi dei vigili del fuoco. Il Veneto flagellato dal maltempo. Vicenza sott'acqua. Il governatore Zaia chiede lo stato di crisi. È un'alluvione. La città salvata dai bacini di laminazione. Il Garda supera il livello di attenzione. Esondazioni e frane in Toscana e in Emilia. Buonasera, ci sono tanti temi in primo piano dal maltempo alla politica fino alle trattative in corso per una tregua a Gaza. Vediamo quelle principali. Allerta rossa in Veneto, piogge incessanti hanno provocato le piene dei fiumi Retrone e Bacchiglione. A Vicenza strade allegate, sacchi di sabbia per proteggere le case. Interrotta la linea ferroviaria Milano-Venezia, ma il maltempo è imperversa su molte regioni. Frane in Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. Vento e mareggiate al sud. Dopo la Sardegna all'Abruzzo, tra dieci giorni un nuovo test elettorale. Leader pronti a scendere di nuovo in campo. Riflessione nel centro-destra. Nel centro-sinistra il campo largo si estende ad azione. Va naci sospeso per 11 mesi dall'esercito dopo il suo libro. Salvini, un'inchiesta al giorno, siamo al ridicolo. Ore cruciali per capire che direzione prenderanno le trattative sulla tregua a Gaza. Biden vince le primarie in Michigan, ma senza il voto della comunità islamica per la mancata presa di posizione su un cessato il fuoco. Allarme antisemitismo dell'intelligenza italiana. Episodi in crescita. Putin, un mafioso sanguinario, deve rispondere per ciò che ha fatto all'Ucraina. La Russia e il mio marito. La vedova di Navalny, Iulia, accolta dagli applausi al Parlamento europeo. Farò del mio meglio perché il sogno di Alexei si realizzi. Venerdì in chiesa, Mosca, i funerali del dissidente russo morto in carcere 12 giorni fa. Carenze igieniche, farmaci, scaduti, infermieri senza diploma. Ispezioni dei carabinieri dei NAS in 600 case di riposo in tutta Italia. Il 32% sono risultate irregolari. 43 persone denunciate, sanzioni e sigilli in alcune strutture. In Italia vengono abbandonati in media tre pitbull al giorno, cani non per tutti, che se finiscono nelle mani di padroni inesperti o imprudenti, possono aggredire l'uomo con conseguenze anche letali. E c'è chi se ne libera, lasciandoli per strada o nei rifugi. Stasera su Canale 5, un nuovo appuntamento con il grande fratello, condotto da Alfonso Signorini, tra coppie che si allontanano e altre che si avvicinano. affollatissimo il televoto con sette concorrenti in nomination. Ma il tempo resta difficile la situazione in Veneto, soprattutto nel Vicentino, molte le zone sott'acqua. Il governatore Zaia chiede lo stato di crisi, confermata anche per domani l'allerta rossa. Allagamenti e frani in Toscana e in Emilia, i fiumi fanno ancora paura, esondazioni a Parma, ponti e strade chiuse nel Modenese e si temono nuove perturbazioni anche al sud. Fuga o depistaggio, ancora nessuna traccia del marito di Sara, uccisa con venti coltellate davanti a casa della madre abbovolenta nel Padovano, individuato sul fondo del fiume Bacchiglione, il furgone dell'uomo, ma la piena ne impedisce il recupero. I due avevano un appuntamento, lui aveva chiesto un giorno di ferie, l'ipotesi del delitto premeditato. Undici mesi di sospensione, stipendio dimezzato per il generale Vannacci, coinvolto in due inchieste, perpetuato e truffa e per istigazione all'odio razziale, l'alto ufficiale prepara il ricorso e annuncia vado avanti, continuerò a difendere la libertà di espressione. Il caso investe la politica, teso, botta e risposta tra Salvini e Crosetti. L'Italia e l'Europa devono stare attenti alle campagne della Russia che sfruttano la disinformazione e lo spionaggio e potrebbero cercare di influenzare anche le elezioni europee di giugno. L'avvertimento arriva dalla relazione annuale del Dissi, il dipartimento che vigila sull'attività dei servizi segreti. Prima di Navalny, Putin uccise mio marito Alexandre e ora è deciso a far morire in carcere anche l'oppositore Cara Mursa. Così in un'intervista a Mediaset, la vedova di Litvinenko, il dissidente avvelenato a Londra nel 2006 dagli agenti russi. L'Occidente dice che deve appoggiare la nostra lotta contro i criminali del Cremito. Dario Ballantini festeggia 40 anni di carriera con due appuntamenti a Firenze, una mostra e uno show, attore, cantante e pittore, un artista dai mille volti come quelli dei suoi personaggi. Imitazioni quadri, la ricetta di un irrefrenabile creativismo. Mahmoud, re delle classifiche italiane e internazionali, la sua tuta Golgi a disco di platine, un tormentone da cantare e da ballare ma anche una corazza indossata contro le sofferenze del passato ci racconta il cantante e ora pronto ad affrontare la sfida del Tour Europeo. Ursula von der Leyen lancia l'allarme, ci vogliono armi di tutti noi insieme per l'Ucraina, per sostenerla nella difesa dai russi. Compriamole tutti insieme come abbiamo fatto per i vaccini e prendiamo i fondi dai soldi russi congelati all'inizio della guerra in Europa. Ma nel frattempo si apre un altro possibile fronte di quella guerra perché c'è la Transnistria, la parte separatista orientale della Moldavia che chiede l'aiuto di Mosca. E se glielo desse? Nella stessa Assemblea di Strasburgo la vedova del massimo oppositore russo Navalny come si sa morto in penitenziario in Siberia emoziona tutta l'Assemblea parlando del marito morto indicando la strada per sconfiggere Putin. Avete a che fare con il capo dico testualmente di un'organizzazione criminale. Le sanzioni non servono. Dovete essere innovativi come lo era mio marito. Per questo dovete dare la caccia a avvocati e finanzieri che aiutano Putin a nascondere le sue fortune. I funerali di Navalny saranno celebrati venerdì in una chiesa di Mosca. Tra le elezioni sarde ormai alle spalle quelle d'Abruzzo a cui mancano solo 11 giorni ovviamente si prepara una nuova campagna elettorale e affianano tensioni sul terzo mandato e poi anche su quella che sarà la terza elezione quella per la Basilicata. Sulla campagna elettorale irrompe anche il caso Vannacci la cui sospensione per 11 mesi da parte del Ministero della Difesa provoca un botta e risposta tra Salvini che lo candiderà pressoché certamente alle europee e il Ministro della Difesa Crosetto che parla di indagine automatica trasferita intanto ad altro incarico la dirigente del reparto mobile di Firenze che ha inviato gli agenti in manifestazione terminate con i manganelli ma non avrebbe un diretto rapporto con la decisione appunto di usare la forza. Gaza ancora in bilico tra guerra e pace l'Egitto è fiducioso sulla possibilità di un accordo per il cessato il fuoco forse già domenica come indicato nei giorni scorsi da Biden si ipotizza una tregua fino alla fine del Ramadan e lo scambio tra ostaggi e detenuti palestinesi domani a Mosca colloqui tra le fazioni di Fatah e Hamas sull'ipotesi di un governo unificato e sulla ricostruzione della striscia nel dopoguerra. La netta vittoria in Michigan per Biden così come per Trump nelle file repubblicane ha un problema però perché l'attuale presidente ha trovato nelle urne una frangia del 13,3% a favore della Palestina che per questo non ha voluto scrivere o barrare il suo nome il sei troppo filo israeliano il messaggio praticamente diretto e per quanto riguarda Trump ancora i moderati che non stanno dalla sua Niki Alley pesa ancora una volta in queste quinte primarie il 30% circa dei consensi a a a a